E' quello di essere pieghevole perché il vero mestiere del woman band è divertire i popoli Voi oggi, qualcun altro domani, qualcun altro ieri Il vero woman band deve essere pronto a viaggiare dovunque E una chitarra pieghevole è quello che gli serve Diffidate da coloro che non danno l'anima mentre suonano Da coloro che non danno l'anima mentre fanno qualsiasi cosa che dovrebbero amar fare Perché vorrei dirvi una cosa Solo chi ha i cili dentro può arrivare al cuore delle persone Ma non deve essere un cili normale, deve essere un bad cili Bad cili, bad cili Ma non deve essere un cili Ma non deve essere anche un cili Diffidate da donna l'anima mentre suonano tra le persone no 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 Grazie a tutti. 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 Quindi, continuare così.